Non quantità ma qualità e la risposta 5 Stelle alle due grandi coalizioni di centrodestra e centrosinistra. Come da consuetudine il Movimento 5 Stelle ha una sola lista con 29 candidati, capitanati da Sara Marcozzi che per la seconda volta si candida a governare l'Abruzzo. Sono tutti professionisti, insomma abbiamo ingegneri, architetti, avvocati, insegnanti, quindi rappresentiamo un po' l'intera società civile abruzzese, imprenditori, per cui crediamo di portare le nostre esperienze al servizio degli abruzzesi. Adesso abbiamo l'opportunità di restituire dignità alla nostra regione con un programma che presenteremo a brevissimo e che sarà basato soprattutto sul lavoro, sulla sanità, sulla sanità delle aree interne, sulla percorribilità evidentemente delle nostre strade che sono distrutte soprattutto nelle aree interne e un grosso piano di rilancio del turismo. Polemiche e critiche nei confronti degli avversari non sono mancate. Sono candidati che si presentano senza simbolo, che si vedono sui manifesti senza simbolo quando hanno delle grandi tradizioni di uomini di partito e mi aspettavo di vedere il simbolo del Partito Democratico ad esempio sul candidato del centrosinistra, visto che è uomo del Partito Democratico e mi aspettavo dal centrodestra, tra l'altro, che riuscisse a trovare tra 1.300.000 abruzzesi un candidato che fosse abruzzese. Ci contrapponiamo ai grandi schieramenti rastrella voti ed eleggi sempre gli stessi.